Allora siamo con Jean-Pierre e Luis dell'SVS Roma, oggi perdevate 1-0 alla fine del primo tempo ma siete stati bravi, avete avuto la forza di ribaltare la partita prima trovando il gol del pareggio, poi avete addirittura vinto per 2-1 nonostante la sfortuna perché avete colpito anche due pali. Un commento alla partita, com'è andata? A me la partita, quando avevo cominciato mi sentevo un po' stressato perché normalmente come sono un po' più piccolo, loro sono due teste più grandi di me, sempre che devo bloccare a uno in un calcio d'angolo io mi sento, questo mi ammazzo. Ma dopo nel secondo tempo, come avevo molto voluto giocare, ci siamo messi bene e abbiamo cominciato a fare un gol, dopo un altro, due pali sfortunati e anche ce ne sono molto parate di Alvaro. Grazie, grazie. Io il mio commento è che come sempre prima della partita ci sta sempre un... tutti sono nervosi, se perdiamo o non perdiamo o pareggiamo, anche per Piazza Torneo che è importante. Io sono felice che tutti siano venuti e noi siamo forti e... Anche l'altezza non conta. Sì, quella no sì. Sono piccolo mamma. Anche se loro sono grandi non significa niente. Ma già, li abbiamo vinto due a uno e non è male. L'importante non è vincere ma è divertirsi. Però voi oggi avete vinto e quindi Davide ha sconfitto Golia e allora congratulazioni e facciamo un saluto a Davide e speriamo che stia bene e che si rimetta presto dall'infortunio. Ciao Davide! Ciao Davide! Ci vediamo, non so... Quando hai finito. All'allenamento, credo. Eh, non lo so.